Grazie mille amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù che è giunto alla 32esima puntata. Questo sarà un ciclo di catechesi inevitabilmente abbastanza lungo, perché le sette virtù e i sette vizi capitali sono un amplissimo materiale formativo e queste nostre conversazioni sono comunque, per quanto un tentativo di un approfondimento, è sempre molto sintetico e limitato, nel senso che si potrebbe discorrere ben più a lungo su ciascuna delle cose che stiamo vedendo. Stiamo dentro la virtù cardinale della giustizia, in particolare la sua parte più nobile, che è la cosiddetta religione. Abbiamo visto che la giustizia è una virtù cardinale che si dirama in nove parti. La più importante è la numero uno, perché è quella che regola la giustizia verso Dio e la religione. Abbiamo già visto diverse cose, terminando la volta scorsa con la preghiera, e quindi ricordiamo che pregare, quando si parla, stiamo dentro la virtù cardinale della giustizia, quindi di tutte le cose di cui stiamo parlando. Vuol dire che sono atti dovuti, però la volta scorsa abbiamo visto l'adorazione, la devozione, e la religione stessa, oltre che la preghiera, quindi con quello che significa, sono atti dovuti, cioè non sono concessioni, capito? Diceva, se mi va le faccio, se le faccio certamente è meglio, ma se non le faccio non succede niente, se non le faccio è peccato, d'accordo? Ecco, è chiaro che il nostro Signore non ci costringe con il fucile, ecco, perché se ci costringesse non saremmo liberi, però nella nostra formazione cristiana è sempre molto importante distinguere ciò che è dovuto e ciò che invece non è dovuto, cioè che se lo faccio è meglio o è addirittura perfetto, ricordiamo, no? San Paolo, ciò che è buono, a lui gradito, è perfetto. La distinzione tra il bene e il male la dobbiamo conoscere, perché una cosa è buona, che è buona significa che il suo contrario è male, d'accordo? Quindi, cioè che è peccato, quindi dobbiamo sapere, chi non prega mai, pecca, quando ci si va a confessare qualcuno, deve confessare, se almeno quel minimo indispensabile di preghiera lo fa. Poi, certamente, nel Catechismo ci hanno insegnato, la Chiesa ha sempre comandato nella sua sapienza, almeno le preghiere del mattino e della sera, almeno, proprio almeno, fa attenzione della croce, rivolge un pensiero a Dio quando mangi. Questi sono atti dovuti, questi qui non sono pie concessioni fatte all'Altissimo. Poi, aumentare, avere una buona vita di preghiera, incrementare la preghiera nella quantità e nella qualità, anche a non fermarsi soltanto alla preghiera vocale, ma andare oltre con la orazione mentale, poi con la contemplazione, poi con l'orazione profonda, con l'orazione di unione, fa tutto quello, è meglio, insomma, cioè, si gustano tante cose bellissime per chi vive questo, ma scendere al di sotto di una certa soglia è peccato. Ecco, quindi questo significa parlare anche di queste cose, no? Sapete quante volte io, insomma, dico, raccomando alle persone perché la grande maggioranza delle domande che vengono poste sono sempre domande un po'... Ma quando viene posta una domanda, cioè, su una cosa che è peccato, rispondo subito, questa cosa non si può fare, d'accordo? Secondo la legge di Dio. Poi, veditela tu, se si può fare lo stesso, te l'assumi le conseguenze, ma secondo la legge di Dio, questa cosa non è licita. Questo è un dovere di un ministro di Dio, non solo dirlo, ma dirlo anche chiaramente e senza paura, senza rispetto umano. Allora, per chiudere la virtù della religione, quindi la prima parte delle nove della virtù cardigiana della giustizia, ci manca ancora qualche considerazione sulle ultime parti di questa stessa virtù. Cioè, il sacrificio, le oblazioni, le decime, i voti, il giuramento, lo scongiurro e la lode di Dio. Tutte le altre cose che elenca Sant'Ommaso, che è veramente... Io penso che la Somma Teologia è tutta un piccolo capolavoro. Ci sono alcune sezioni, però, dove il Dottor Angelico è particolarmente brillante. Nella trattazione sui viziari virtù, a mio avviso, è veramente molto, molto, molto edificante. Allora, il sacrificio. Offrire a Dio sacrifici. È un atto facoltativo o dovuto? Allora, innanzitutto che cos'è un sacrificio? Il sacrificio è sacronfacere, quindi etimologicamente fare una cosa sacra, è l'offerta a Dio di beni sensibili, quindi tangibili, come doni ed omaggi in segno della nostra sottomissione a Lui, perché il sacrificio si offre a chi è più grande di noi, e dell'onore a Lui dovuti. Pensiamo che offrire sacrifici esterni, dice Sant'Omaso, è una norma di legge naturale, cioè anche le false religioni, perché ci sono le false religioni, non dobbiamo avere pura di dirlo oggi, le religioni che adorano falsi dei, c'erano i romani, c'erano i pagani, ma c'erano poi i politeisti cananei, c'erano le religioni degli incas, quelle dell'Oriente, ma in ogni religione che si trova c'è sempre il sacrificio reso alla divinità, anche tra i pagani, l'incenso, l'immolazione delle vittime, gli animali, le aberrazioni, come tutti penso che sappiamo, questo lo facevano per esempio i cananei, e lo fecero anche gli ebrei, c'è un salmo molto bello che narra di come a un certo punto gli ebrei si corruppero e si misero a offrire i sacrifici umani, lo facevano anche in Medio Oriente, non soltanto le religioni, quelle del Sud America, quelle delle maie e degli incas, diventate famose grazie al film di Mel Gibson, Apocalipto, che strappavano il cuore alla gente, ancora viva per offrirle un sacrificio, che cosa voglio dire, che anche dietro queste aberrazioni, che queste sono aberrazioni ovviamente, però c'è un concetto, cioè che è di legge naturale, quindi legge naturale vuol dire che è scritta dentro il cuore degli uomini e che l'uomo sente che deve offrire alla divinità il sacrificio. Ora, si chiamano propriamente sacrifici, quindi esterni, dice Sant'Omaso, quelle cose che vengono offerte a Dio per confessare la propria sottomissione, cioè, noi dobbiamo stare sottomessi agli uomini solo per amore del Signore, dice San Paolo, e nella misura in cui questo non mi mette fuori o contro la volontà di Dio, ma a Dio la sottomissione è assoluta. Cioè, il fatto che noi, nella nostra santa e stupenda fede divina e cattolica, possiamo chiamare Dio papà, possiamo avere una grandissima intimità con il nostro Signore Gesù Cristo, non ci deve mai far dimenticare che Lui è il nostro Dio. Su questo la Madonna, oggi ricorre la festa di Maria, Madre della Chiesa, è la maestra delle maestre. La Madonna non si è mai permessa di prendersi in debite confidenze o di togliersi dal suo posto di umile ancella per il fatto che Dio aveva concesso un'intimità, insomma, è una vicinanza così grande con Lui, col suo mistero. Chi è stato più vicino a Dio e più intima di Dio, di Maria? Ma noi pensiamo forse che la Madonna non offrisse sacrifici a Dio. Figuriamoci, insomma, no? E come? Quindi, i sacrifici esterni sono quelle cose che vengono offerte a Dio per confessare la propria sottomissione a Lui, sulle quali si fa qualche atto, appunto, sacrificio, sacro, un facere, quale, per esempio, uccisione degli animali, offerta di una decima, quindi frazione del pane, qualcosa. E i sacrifici, attenzione, si offrono solo a Dio. Il sacrificio è proprio l'atto per antonomasia che si offre a Dio solo. E non solo a Dio solo, ma per noi, che adesso lo sappiamo chi è il Dio solo, solo al vero Dio. Non solo a Dio solo, ma solo al vero Dio. Guardate che i nostri fratelli e sorelle maggiori, specialmente dei primi secoli, guardate che le storie del martirio erano molto semplici. Catturavano un cristiano, dopodiché lo portavano al tempio, oppure costruivano gli altarini nelle aule giudiziarie. D'accordo? Dopodiché dicevano devi mettere un pochino di incenso davanti alla statua di Giove. Basta, poi è finito tutto. Pensate che i cristiani l'hanno fatto, ma manco morto. E si sono fatti ammazzare per questo. Quindi, non soltanto che i sacrifici a Dio si offrono, ma si offrono i sacrifici all'unico, solo e vero Dio, e a nessun altro. Allora, sono sacrifici esterni, quindi non soltanto questi gesti, diciamo, rituali, che poi tra l'altro nella Nuova Alleanza sono scomparsi. Qual è l'unico sacrificio rituale che si offre a Dio? L'unico a Lui gradito. Domanda ritorica, no? È la Santa Missa. La Santa Missa è cos'è? Essenzialmente, dallo attento a tutte le stupidaggini che ancora qualcuno va dicendo in giro sulla Missa, perché la dottrina del Concilio di Trento rimane assolutamente immutata. La Missa è essenzialmente, anzitutto, un sacrificio, anzi, l'unico sacrificio gradito a Dio e che Dio vuole che gli sia offerto per il sacrificio della Nuova Alleanza, che è il corpo e il sangue morato del suo figlio, a cui è unito il sacrificio della Chiesa. Il mio e il vostro sacrificio. Basta. Ora, in quel il mio e il vostro sacrificio, appunto, che dice il sacerdote nell'offertorio, che cosa c'è? Allora, sono tutti quanti gli atti esterni che noi compiamo di virtù compiuti in onore ed osseguo di Dio. per esempio, fare le lemosine, fare rinunce, rinunce, perpetue o temporanee, no? È passato da poco il mese di maggio, che faccio? Rinuncio ai gerati, rinuncio al caffè, rinuncio ai condimenti, rinuncio alle bevande alcoliche, rinuncio alla televisione, rinuncio a Facebook, non lo so, qualunque rinuncia, è un sacrificio. I digiuni sono sacrifici. Le penitenze corporali, di ogni tipo. Da poco c'è stata la Madonna di Fatina, dice, volete offrire sacrifici al... Dice, sì, vogliamo sacrificarci, che sacrifici offriamo? La Madonna ha risposto, tutti quelli che volete, in tutti i modi possibili. Inventate! Buon divertimento! Tutti questi atti sono sacrifici offerti a Dio. Ora, domanda, perché questa è una catechesi, non è semplicemente una lezione formativa. Tu hai interiorizzato, io ho interiorizzato, l'importanza... Offri dei sacrifici a Dio? Sì o no? Perché almeno qualcuno, qui siamo sempre nell'ambito della giustizia, noi non possiamo fare una vita senza soffrire nemmeno un sacrificio a Dio. Niente! Non dargli nulla! Certo, da un punto di vista rituale e liturgico, c'è la Santa Messa. Partecipare alla Messa Domenicale è evidentemente partecipare all'offerta dell'unico sacrificio rituale gradito a Dio. Se poi non ci va ancora più spesso, tanto meglio. ma qualcosa che ti tocca nella carne, come si legge nelle lettere di San Paolo, che ti costa un po', gliel'hai offerto al Signore? Mai? Ah, c'è stato un sacco di gente che a Dio non gli dà proprio niente, eh! Niente! Ora, nella Nuova Alleanza, l'abbiamo già detto, questo è stato un maso l'evidenza, inaugurato da Nostro Signore, sono stati aboliti tutti i sacrifici rituali e cruenti di animali o altri che furono compiuti nell'Antica Alleanza. Basta leggere il libro del Levitico, la seconda parte del libro dell'Esodo, e c'è stata una cultura. Tutti aboliti, perché il sacrificio di Cristo ha abolito tutti i sacrifici dell'Antica Alleanza che lo prefiguravano e adombravano misticamente e misteriosamente. Quindi rimane soltanto l'adorabile, l'inestimabile, il meraviglioso, il sublime sacrificio della Santa Missa, l'unico sacrificio gradito da Dio. Il corpo e il sangue del suo figlio, immolati una volta sull'altare della croce, ma che si immolano in maniera differente dalla croce, cioè non cruenta, ossia mistica. Mistica significa attraverso i segni sacramentali, ma assolutamente vero e reale e al quale tutti quanti i sacrifici, sperando che li facciamo, vanno uniti nostri. Ecco perché c'è quel segno rituale. Ecco perché anche durante l'offertorio, per esempio, vedremo, c'è l'usanza di far passare la questua, non è che mi fa proprio, diciamo che per questa significazione vabbè, lo accettiamo. Perché, come dire, ecco, fanno una piccola elemosina in quel momento, oppure un gesto, poi vedremo, perché sovvenire alle necessità della Chiesa non è semplicemente un elemosina, attenzione, ma è un dovere di un fedele. Non lo dico, guarda, io dico sempre portatele in tutte le altre parrocchie del mondo, io non chiedo soldi, non mi chiesti, per carità di Dio, ma il fatto in se stesso, cioè anche io che sono un prete, questo sia ben chiaro, ma lo sanno sicuramente tutti i miei confratelli, io devo sovvenire a necessità della Chiesa, non posso soltanto prendere le remunerazioni che vengono come fondamento ultimo dalle elemosine dei fedeli, io devo contribuire alle opere della Chiesa, mettendoci del mio, come tutti, non posso soltanto come dire, prendere con la scusa del fatto che svolgo un servizio ecclesiale, l'incarico ecclesiale, tutti siamo tenuti. Secondo, le oblazioni o le offerte e le primizie, le trattiamo insieme queste cose, no? sono offerte di beni sensibili, sono sempre sacrifici, però fatte al Signore, questa è la differenza dal sacrificio in senso stretto, senza compiere atti su di essi. San Tommaso fondamentalmente le fa coincidere con le offerte di cibo e denaro che i fedeli fanno a Dio in occasione delle sante messe e il cui uso e distribuzione ordinariamente aspetta ai sacerdoti, più che uso e distribuzione si tratta di amministrazione, cioè questo perché capiamo perché molti fedeli non sanno tante cose, le offerte che si mettono per esempio durante l'acquesto, mica il sesso dote se le mette in tasca, d'accordo? Il sesso dote non può mettere in tasca nulla di tutto quello che deriva dalle attività di culto e pastorali che fa, lo dico perché i fedeli devono sapere queste cose qui, cioè se io vado a benedire una casa e un fedele liberamente mi lascia un'offerta, quell'offerta non è che non le metti in tasca, quell'offerta va nel conto della chiesa, se vengono a celebrare un battesimo e lasciano un'offerta, non è che me la metti in tasca, quell'offerta va nel conto della chiesa, se vengono a celebrare un matrimonio e lasciano un'offerta, va nel conto della chiesa, se vado a portare la comunione il primo mattino del mese ai malati e qualcuno lascia un'offerta, va nelle casse della chiesa, tutto va nelle casse, se qualcuno mi lascia, ti prenditi questa offerta, va nelle casse della chiesa, d'accordo? tutto quello che un sacerdote fa in quanto minister, l'unica cosa che il sacerdote può amministrare senza essere obbligato a metterlo nelle casse della chiesa è l'offerta che riceve per la celebrazione delle sante messe, perché quella aspetta a lui. Stop! Del resto non può e se vuole la può usare per uso personale. Cioè, nel senso, lì sono affari suoi, lì veramente amministra secondo scienza e coscienza, ne fa quello che vuole. Il resto niente, cioè non sono soldi che vanno al prete, sono soldi che vanno alla chiesa per le sue necessità. D'accordo? Quali sono le necessità? Capite? io vi dico perché adesso faccio il parroco da tanti anni, neanche io le immaginavo tantissime cose, alcune cose si immaginano soltanto stando dalla parte di qua. Perdonatemi se dico queste cose, però ogni tanto credo che possano interessare ai fedeli, eventualmente chiedo umilmente perdono se sto divagandomi, però proprio terra terra, noi vediamo una chiesa che è tutta bella e illuminata, per esempio io ci tengo molto all'illuminazione della chiesa, però capite bene che se tu tieni la chiesa illuminata tutto il giorno non è che la polletta detiene l'energia, qualcuno la deve pagare, chi la paga secondo voi? Chi la paga il vescovo, la paga il comune? No, la paga la parrocchia a cui è intestata, è chiaro che se tu tieni accesa la chiesa tutto il giorno, tutti i giorni, stai tranquillo che 200 euro di bolletta al mese al sicuro ti arriva, chi la paga? Punto interrogativo, no? Cioè le candele che stanno accese sull'altare chi le paga? Le ostie che si usano per celebrare la mese chi le paga? Cioè le vestine che vengono consegnate durante il sacramento del battesimo non è che piovono dal cielo, se comprano e chi le paga? Capite? La candela anche che viene amministrativa, tutto, cioè capite? Ci sono delle, queste sono piccole cose, ma se sfasciano le campane, ogni volta che le campane si sfasciano si sono botte da 2.000, 2.500 euro, sono botte qua nel posto dove sto io che ci stanno Dio li benedica ai fulmini, quando un fulmine stecca un meccanismo dei campane mi importa che viene il tecnico sono 2.000 euro, 1.500 euro, chi le paga? Vuoi far uscire la madonnina in processione? La madonnina in processione è che te la porti in braccio, ci vuole la cosiddetta macchina, e quella non è che piove dal cielo, la devi far realizzare da un artigiano, e lo devi pagare, non è che quello lavora per la gloria, non è detto che te le regalano le cose, c'è qualcuno certamente che fa le offerte, no? Però, quindi, queste sono cose piccole, poi queste sono le cose grosse, cioè, costruirsi un locale parrocchiale, un oratorio, apri un oratorio, devi comprare un oratorio, apri l'oratorio, bene, il biliardino, da dove viene? Il tavolo da ping pong, da dove viene? Il canestro, le porte per giocare a palloni, palloni, d'accordo, da dove viene? Sono tutte quante spese ordinarie che servono evidentemente per l'attività pastorale, no? Tutto qui, cioè, avete visto per esempio, io non amo molto fare questa cosa proprio in termini precettivi, però, scrivere un figlio a catechismo, allora, io sono, io penso sempre, insomma, no? cioè, io mi regolo così, l'iscrizione serve a coprire in parte le spese piccole dell'anno, ma anche soprattutto i testi, perché se vengono consegnati dei testi, se un testo di catechismo costa 10 euro, chi li paga? Punto interrogativo. se tu ogni anno all'inizio dell'anno paghi 15 euro di iscrizione a catechismo, non è il catechismo costa, d'accordo? È semplicemente un piccolo rimborso spese, guardate che non è tanto più di quello. queste cose sono amministrate dai sacerdoti, i quali a loro volta devono anche metterci un pochettino del suo, no? le primizie da offrire al Signore, o le primizie nell'Antico Testamento si offrivano come primizie primogeniti di greggio e di bestiame, no? Ricordiamo il Signore dice a me le primizie, cioè per educare il popolo, no? Cioè che a Dio si offrono le cose più belle e più care, ma è una gioia, che poi tra l'altro tu prova ad offrire a Dio una cosa a cui tieni tanto, provaci, vedrai quello che ti ritorna, perché queste cose non è che Dio ci ha bisogno delle nostre offerte, cioè sono atti, diciamo così, con cui noi attestiamo la nostra volontà di dargli tutto, perché tutto si merita, ma lui non ci ha bisogno di niente, cioè fare una cosa di questo è semplicemente mettersi in condizione di ricevere il contraccambio di molto più di quello che tu hai dato, in beni e benedizioni soprattutto, e pace e grazie, e gioia. Quindi, nell'Antico Testamento si offrivano i primogeniti dei gregi, del bestiame, ora qualunque cosa sia particolarmente cara al nostro cuore, la offriamo con gioia a Dio, a che fine? Al fine di rendergli gloria, di dire tu sei Dio e io sono un tuo povero figlio, accetta questa cosa, la faccio per te. culto, o anche impetrare grazie, o anche soddisfare i peccati commessi, già perdonati quanto alla colpa. Nell'Antico Testamento c'erano le decime, abbiamo visto oblazioni, offerte, primizie, decime, la decima parte del raccolto, a leggere i libri dell'Antico Testamento, tu la presenti a me, mi dai la primizia dei raccolti, dei frutti, del bestiame a me, la porti al Tempio e la lasci al Tempio, o poi mi dai la decima, a quei tempi non c'erano le tasse, attenzione, noi già diamo non la decima, un terzo, se tutto va bene di quello che percepiamo, ahimè, allo Stato, quindi, se dovesse dare pure la decima ulteriore sarebbe un quarto, insomma, però, non c'è più la decima che veniva offerta ai Sacri Ministri, però, secondo Sant'Ommaso, questa decima è un'altra cosa sancita dal diritto naturale e ordinata positivamente dalla legge di Dio, qual è l'essenza di questo precetto? Che una parte dei tuoi beni appartengono al Signore e devono essere devoluti per cose inerenti, la sua gloria e il suo culto. Ok, attualmente, come noto, penso, siamo sempre in tema catechetico, c'è il concordato tra Stato e Chiesa ad avere sostanzialmente risolto la questione anche del sostentamento del clero. I preti per quanto mi riguarda non devono essere, non è per quanto mi riguarda, è così punto e basta. Un prete non deve essere ricco, non deve avere un tenore di vita alto. Ciò che è necessario è ciò che è dignitoso e stop. Un prete può, un prete diocesano, possedere dei beni che per esempio derivano dal patrimonio familiare, questo perché lo sappiate, d'accordo, perché è bene, ma evidentemente in coscienza davanti a Dio è tenuto a amministrare questo surplus che gli deriva dal suo status personale in maniera conforme a quello che Dio si aspetta da Lui. Punto. Le decime sono state abolite, però rimane l'obbligo, sancito dalla legge della Chiesa non già accennato, di sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le proprie risorse e possibilità. Anche qui entra in gioco la coscienza, quindi come, dove, quanto tu contribuisci a questo. tutte quante queste cose sono cose che vanno interiorizzate, quindi l'importanza di farle, l'importanza di farla con gioia, l'importanza di farle con il cuore come si dice. Poi abbiamo il tema dei voti, attenzioni, i voti sono promesse fatti a Dio di offrirgli un bene possibile e migliore, motivati dalla volontà deliberata di sacrificare in sonore tale bene. o il voto è una cosa non meritoria, di più altamente meritoria, perché attraverso un voto, spiega Sant'Ommaso, la volontà viene confermata e determinata in maniera immutabile a compiere obbligatoriamente nel futuro cose già di per sé meritorie, però rendendone ancora migliori e più santificanti per i seguenti motivi. anzitutto perché trasforma gli atti anche di altre virtù in virtù di religione e secondo perché sottomette a Dio anche la volontà determinandolo il bene stabilmente. Faccio un esempio, due giovanotti sono obbligati a mantenersi casti fino al matrimonio in forza del sesto comandamento. Chiaro questo qui? Ecco, però non so se conoscete la mia amica Ania che ha organizzato la splendida iniziativa dei cuori puri. Se un ragazzotto che è già tenuto fa voto di castità fino al matrimonio ovviamente quindi promette a Dio solennemente di mantenersi casto fino al matrimonio non fa niente di più di quello che già è tenuto a fare ovviamente però il valore di quest'atto è enormemente più grande perché perché l'ha promesso a Dio quindi quell'atto oltre che essere esercizio della virtù cardinale della temperanza nella sua specificazione come vedremo al suo tempo della castità è anche un atto di virtù di religione che è la virtù più grande tra le virtù morali perché è la prima parte della virtù cardinale della giustizia mi spiego ora però attenzione i voti bisogna adempierli una volta che sono fatti perché è una cosa molto grave non adempiere per leggerezza un voto oppure fare un voto per leggerezza quante volte mi è successo di intercettare situazioni di voti fatti a cuor leggero in un momento attenzione nella sacra scrittura si legge fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli non si può fare un voto e poi infischiarsene proprio con Dio non si gioca non si scherza né con Dio né con la Madonna pensate per esempio San Luigi Maria Confort quando spiega la vera devozione alla Madonna il trattato della vera devozione dice chi fa questa cosa che è già una cosa molto impegnativa non la fa vincolandosi con voto perché vincolarsi con voto è una cosa ancora più forte e bisogna pensarsi molto bene prima di farla chi se la sente e non so se la sente e anche con il più e prudente consiglio di qualcuno come dire può azzardarsi a fare una cosa di questo genere può anche radicalizzare ulteriormente una consagrazione con la forma del voto però poi deve stare attento perché non si può poi riprendere ciò che ha dato alla Madonna legandosi con voto non si può se una persona fa il voto alla Madonna non tocco più una sigaretta tu quella sigaretta non la tocchi più eh già toccare le sigarette non è certamente un atto di virtù e non aggiungiamo altro l'abbiamo già fatto ma se tu fai un voto di non toccarla guarda te se lo tocchi ecco perché poi quando un voto non lo si vuole più osservare è possibile esserne dispensati ci vuole chiaramente l'autorità ecclesiastica vedete tante volte a me qualcuno mi ha chiamato da varie parti d'Italia e ho fatto sta cosa qui tu mi devi sciogliere dal voto mi dispiace tanto ti posso fare niente d'accordo perché qui si entra dal momento che il voto è una cosa che è grossa si entra nel tema dell'autorità canonica cioè allora se tu fai un voto chi ti può sciogliere dal voto è il tuo parroco o il tuo vescovo cioè chi ha autorità canonica su di te il padre spirituale non ti può sciogliere da un voto nemmeno il confessore e né tanto meno il sacerdote di cui ti fidi e che è come dire un po' un tuo punto di riferimento spirituale perché ne hai stima o per tante questioni capito ci vuole il parroco il vescovo o nelle diocesi dove c'è ci dovrebbe stare dovunque una figura particolare che è il penitenziere cioè quel sacerdote che è delegato dal vescovo a amministrare il sacramento della penitenza anche in quei casi che comportano le emissioni di censure canoniche di vario genere questa disciplina fa capire che non si scherza con questa cosa perché se faccio un voto se poi per esserne dispensato devo passare attraverso l'autorità canonica che non è obbligata a dispensarmi mi chiederà delle motivazioni perché non vuoi osservare più questo voto ti può dispensare o te lo può commutare dice va bene non fare questo ma fai quest'altro e tu puoi quest'altro lo devi fare è una cosa molto bella perché il voto dà una grandissima gloria a Dio però non va fatto a cuor leggero noi non possiamo sulla base degli entusiasmi possiamo fare dei propositi proposito che peraltro proposito non è che tu fai proposito e poi te ne infischi però mentre secondo la come dire la teologia spirituale la scetica non osservare un proposito è un'imperfezione a meno che non sia fatto proprio con dispregio e trascuratezza perché allora quel caso è un po' più che un'imperfezione è mancare un voto è un peccato mortale quindi non ci sta un abisso il proposito va fatto quando uno fa un proposito al Signore si deve impegnare ad osservarlo però ti prometto Signore che in questa quaresima non tocco non tocco alcol se tu dici ti prometto perché il voto è una promessa fatta a Dio tu non lo puoi toccare alcol se tu dici propongo di non bere alcolici non lo puoi toccare ma se Dio non voglia dovessi violare questa cosa qui non è peccato mortalmente è chiaro che il merito però è anche inferiore quindi è sempre un cane che cioè quindi la scrittura dice fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli quanti lo circondano portino doni al terribile questo è un salmo a lui che toglie il respiro ai superbi è terribile per il re della terra questo è un bellissimo salmo ok evidentemente i voti tutti sappiamo che i voti più importanti sono i voti pubblici in particolare quei voti che caratterizzano quella particolare forma di vita che è appunto la vita religiosa quindi dove la virtù della religione è sommamente curata e che sono i voti attraverso i quali si professano pubblicamente l'osservanza dei consigli evangelici cioè di povertà di castità e di obbedienza allora c'è anche la questione del giuramento tra gli atti della virtù di religione perché il giuramento sapete che è un tema delicato allora la tradizione della chiesa tutta la chiesa concili teologi hanno sempre interpretato l'esortazione di Gesù a non giurare affatto dice avete inteso che fu detto non sper giurare ma tempi nel Signore i tuoi giuramenti ma io vi dico non giurate affatto né per il cielo perché il trono di Dio non per la terra che lo sgabberò dei suoi piedi eccetera allora unanime è stata intesa non come provizioni assoluta quindi atto intrinsecamente cattivo ma come divieto dell'uso sconsiderato del giuramento al di fuori dei casi di vera e urgente necessità cioè il giuramento che cosa consiste il giuramento consiste nell'invocare Dio come testimone della verità delle proprie asserzioni sul passato o sul presente in questi casi si chiama giuramento assertorio oppure delle dichiarazioni riguardanti il futuro in questo caso tecnicamente si chiama promissoria che ce ne importa tanto di queste distinzioni questa è una catechesi non è una lezione di morale o di diritto comunque allora è lecito giurare per Dio tant'è vero che per tanti anni si è fatto nei tribunali quindi non è che nei tribunali anche ecclesiastici si trasgrediva la legge di Dio perché a causa della maledizia degli uomini che si potrebbe sospettare che mentano e in alcune circostanze mentire comporta dei guai non indifferenti quindi il giuramento è lecito ci sono tre condizioni per materie per i quali si rende strettamente necessario altrimenti si cade nel giuramento inconsiderato il giuramento deve essere fatto su materia lecita su cui cioè si può giurare non si può rendere Dio complice di un peccato evidentemente altrimenti il giuramento sarebbe iniquo giuro su Dio che te la faccio pagare non si può dire una cosa di questo genere ok e il giuramento deve essere assolutamente vero guai se chiamo Dio al testimone della della veracità passata presenta futura di qualcosa guai a te se quella cosa è falsa ora il fondamento scritturale del giuramento ecco perché giurare è un atto della visuta di religione si trova nella Sacra Scrittura libro del Deuteronomio capitolo 6 versetto 13 temerai il Signore tuo Dio lo servirai e giurerai in suo nome ripeto le proibizioni che Gesù ha formulato nel Vangelo sono finalizzate secondo dottrina unanime cattolica dal divieto dell'uso sconsiderato di esso quindi il giuramento inconsiderato quindi fuori dei casi di vera necessità e di urgenza e di necessità ecco è evidentemente è evidente che giurare per motivi futili come fanno per esempio i bambini che stanno a giurare e a rigiurare è una cosa che non si deve fare e attenzione io dico sempre se uno vuole evitare di giurare c'è soltanto una piccola cosa da fare non mentire mai non mentire mai perché quando una persona non mente basta la parola basta non ci deve essere mai nessuno che può venirci a dire tu hai mentito o andare a dire in giro di te quello racconta le balle cioè l'onorabilità che noi dobbiamo avere cioè guardate ci sono delle delle virtù che sono particolarmente belle se tu non menti mai cioè è una cosa bella non dico che uno se ne vanta noi ringraziamo il Signore ma è una cosa bella è una cosa che ti dà una onorabilità oggettiva io vorrei tanto che le persone si innamorassero tu impara a parlare in maniera sempre mai sboccacciata puoi tu dire io le parolacce non le dico mai no io non scendo a livello non mi sporco la bocca cioè queste cose si fanno riscoprendo una cosa bella che è la dignità dei figli di Dio chi mente è il padre della menzogna è il diavolo ma puoi tu fare anche su una cosa piccola una cosa che fa il diavolo San Tommaso scrive chiaramente che non si non si mente mai neanche le bugie di scusa perché tanta gente dice io dico le bugie bianche le dice a cuor leggero non si dicono e neanche per scherzo non si mente per scherzo si può scherzare certamente ma non andare per scherzo a mentire e a far credere anche per scherzo come vera una cosa che è falsa o falso una cosa che è vera ultima cosa per quanto riguarda la parte positiva poi andremo a vedere rapidamente i vizi opposti così chiudiamo la virtù della religione lo scongiuro e la lode di Dio sono due modi più che leciti di invocare il nome di Dio con il primo si vuole per orare una supplica lo scongiuro quindi ti prego per Gesù per amore di Dio oppure con lo scongiuro si esercita un potere ricevuto per esempio chi scaccia i demoni per l'autorità e per il nome di Cristo nel nome di Gesù Cristo vattene la lode di Dio evidentemente è ogni forma di eccitazione degli affetti e quindi anche della parola a riconoscere l'eccellenza di Dio per confessare pubblicamente la sua grandezza e questi sono evidentemente atti sommamente santificanti e altamente graditi a Dio allora quali sono i vizi opposti della virtù della religione sapete che per capire bene una virtù poi bisogna sempre andare a vedere i vizi opposti allora si suddividono in due grandi generi rapidamente che non ci abbiamo da tantissimo tempo e a sua volta distinti in singole specie allora la superstizione che comprende le specie della superstizione nel culto del vero Dio dell'idolatria e della divinazione e delle vane osservanze superstiziosi prima grande categoria la superstizione la seconda l'irreligiosità che si distingue si specifica nel tentare Dio lo spergiuro il sacrilegio le irriverenze e la simonia allora vediamo il primo grande genere quindi superstizione e irreligiosità generalmente parlando per superstizione si intende ogni forma indebita di culto reso a Dio che ne offenda gravemente la maestà divina e peraltro mortifica non poco l'intelligenza e la dignità dell'uomo le forme di superstizione sono una mortificazione della nostra dignità una persona che va a credere che il ferro di cavallo porta bene sta mancando di intelletto cioè non sta mancando soltanto nei confronti dell'altissimo perché non porta bene il ferro di cavallo d'accordo quello che dobbiamo cercare è la benedizione del Signore in tutte le cose cioè la superstizione ordinariamente sostituisce con forme ridicole tutto quanto quel mondo che è conosciuto come il mondo dei sacramentali non ti porta bene il ferro di cavallo dentro casa ti porta bene se la casa te la fai bene lì ti porta bene insomma mi si passi l'espressione insomma e soprattutto se in quella casa oltre che la benedizione regna il santo timore di Dio poi sta tranquillo che non succede niente non succede quindi le forme di superstizione generalmente comportano o un elevato grado di superbia o un non meno significativo tasso mi si perdoni il termine di stupidità in senso etimologico lo stupido è una persona che non fa funzionare bene il cervello raka si dice in ebraico senza testa ecco ora la superstizione nel culto del Dio vero scrive Sant'Omaso consiste o nella trasgressione delle leggi della Chiesa riguardanti il culto di Dio oppure nel dare troppa importanza a gesti esterni che non hanno nessuna utilità e sono estrani alle leggi di Dio e della Chiesa ora in questa categoria specialmente in questi nostri sciagurati tempi rientra anche il triste fenomeno degli abusi e delle varie licenze liturgiche sotto tutti i punti di vista perpetrate o dai ministri che amministrano i punti sacramenti o dai laici che vi partecipano tutti quanti ricorderanno che benedetto sedicesimo tanti anni fa scrisse parole di fuoco abusi al limite del sopportabile secondo me il limite del sopportabile si è passato da tempo insomma sotto tanti punti di vista ora attenzione ci sono anche delle forme esterne affettate stravaganti nel rendere a Dio il culto che gli ha dovuto che è su una notare la compostezza dal decoro e dal senso di misura cioè amici ricordiamo sempre una cosa se noi stiamo da soli o in privato e vogliamo esternare il nostro affetto la nostra devozione a Dio anche attraverso dei gesti dei modi di pregare particolari quando stai da solo evidentemente sempre i limiti del lecito insomma non si facciano cose fuori di testa puoi fare quello che vuoi ma in pubblico non va non va anche dei gesti forti diciamo così di adorazione di prostrazione in pubblico non va ci si attenga a quelli che raccomanda la chiesa le genuflessioni si possono fare sempre stare in ginocchio si può fare sempre oltre questo cioè immaginate se una persona durante la consagrazione si prostra con la faccia a terra è un gesto molto bello ma sarebbe un gesto in quel contesto stravagante che attira l'attenzione quindi non consono se tu adesso hai il mese di giugno ecco il mese di giugno vuoi fare l'ora santa come Gesù l'ha chiesto il giovedì dalle undici a mezzanotte ti prostri con la faccia a terra da solo d'accordo? chiudi la porta della camera e poi sta prostrato un'ora due ore poi sta prostrato tutta la notte ma da solo però ecco quindi qui si può purtroppo oggi gli abusi sono quasi sempre nel troppo poco ma si può anche come dire esagerare quindi mancando la compostezza della decola al senso di misura io personalmente però questa è un'opinione personale attenzione quindi non voglio anche quando vedo in certi ambienti delle forme un pochino appariscenti di pregare braccia aperte braccia alzate insomma questi che sono cose che vengono dal mondo protestante fondamentalmente statunitense soprattutto per carità rispetto a me personalmente cioè io mi vergognerei un po' a pregare in quel modo lì non riesco insomma come dire a a starci quieto mi sembrano insomma cose un po' così poi per carità so che ci sono movimenti ecclesiali o realtà che hanno comunque delle forme proprio io non sono molto pratico non sono molto ci avranno sicuramente il loro senso le loro cose però in linea di massima quando si sta in comunità quantomeno nelle nelle espressioni diciamo così pubblico ufficiale della comunità cristiana quindi all'interno c'è quello stile fa come te pare insomma se la chiesa ha detto che va bene a te piace vedi tu insomma però in altri contesti a mio avviso è completamente fuori luogo chiaro che catene di sant'antonio dolci di padre pio catene di santa rita sono tutte quante espressioni di questo grave peccato non si devono usare forme di superstizione nel culto di dio poi c'è il gravissimo peccato di idolatria che qui veramente ci dovremmo dedicare una puntata a parte ne ho parlato in tante circostanze che consiste nel dare alle creature il culto e l'onore dovuto a dio ora attenzione io vorrei in questo contesto evidenziare una cosa tutte le cose di cui stiamo parlando quindi rendere culto a dio offrire di sacrificio che abbiamo già visto fa parte della legge naturale vuol dire che è iscritto nel cuore dell'uomo quindi tu lo sai che succede un ateo in senso stretto non esiste perché l'uomo a qualcuno il culto lo rende o lo rende al dio vero oppure lo rende a qualcun altro una creatura un idolo del mondo quindi i famosi idoli del mondo se sono soldi e successi ma anche una creatura umana perché oggi il mondo è pieno di dovi la scienza il governante di turno il leader politico pensate ai regimi totalitari della storia il cantante l'avete mai visto nei concerti tu sei il mio dio ti adoro cose di questo genere quelli non sono modi di dire o addirittura anche le figure spirituali significative a cui viene dato un ruolo e un come dire e una soggezione assolutamente sorbitanti assolutamente sorbitanti cioè una persona può essere certamente significativa e se è un uomo di Dio o una donna di Dio considerali come tale ma è un uomo di Dio non è Dio è un uomo di Dio o una donna di Dio il Papa stesso è vicario di Cristo non è Cristo pur con tutto l'onore e la stima che gli ha dovuto ma è vicario di Cristo cioè queste cose dobbiamo sempre tenerle presente perché il culto va dato a Dio solo cioè teniamolo presente allora quale forme di idolatria individuavano i classici quella fisica quindi adorare come degli elementi della natura le creature celesti gli alberi il sole eccetera eccetera mitologica pensate a tutta quanta la mitologia pagana no? adoravano come degli uomini ok? oppure gli imperatori che volevano essere adorati come Dio oppure civile adorare come Dè immagini di vario tipo in quanto protettici della città o del territorio ora è gravissimo peccato prestare adorazione anche solo esterna anche solo esterna è quindi non assecondare dall'interno del cuore a qualunque pseudo divinità e a qualunque essere umano perché il culto e l'adorazione hanno senso e sono doverosi solo e soltanto in quanto espressione dell'adorazione interna e vanno resi sempre solo e soltanto a Dio fare finta di adorare esternamente qualcosa o qualcuno con la riserva di non farlo internamente non è solo da peccato mortale cioè per esempio un martire del primo secolo e direi beh io ce lo metto all'incenso dinanzi al Giove ma tanto che me ne importa cioè per me è un gesto esterno che non conta niente io dentro il cuore continuo ad adorare il Signore e no figlio mio non funziona perché proprio quel gesto esterno che manifesta e tu non puoi mentire in quel gesto esterno in una cosa così grave quindi dare l'impressione che tu adori Giove perché tanto non è quello che diceva che me ne importa io tanto continuo sempre ad adorare Gesù Cristo per me Giove nessuno non funziona questo qui non si può far finta di adorare esternamente qualcosa o qualcuno con la riserva di non farlo internamente e questo non sarebbe certamente esente da peccato mortale ripeto può succedere anche di dolatrare addirittura un santo i santi non fanno i miracoli i miracoli li fa Dio attraverso il santo se tu vedi una persona un santo un santo per esempio un grande predicatore un santo Antonio da Padova ringrazia anzitutto il Signore certamente questa persona ci avrà messo qualcosa del suo ma attraverso le creature si manifesta la gloria di Dio è sempre a Lui che dobbiamo guardare tendere e ringraziare non all'essere umano attenzione anche se l'essere umano specialmente i mediatori tra l'uomo e Dio è chiaro che c'è un'importanza decisiva Gesù ha detto chi ascolta voi ascolta me quindi chi ascolta voi ascolta me sì chi ascolta voi ascolta me quindi attenzione che seguendo quell'uomo di Dio tu stai ascoltando la voce di Dio ma il termine principale ed ultimo di riferimento è sempre al Signore perché anche qui non è che con la scusa del non idolatrare si può dire abbiamo dato questo è un essere umano e chi se ne importa io faccio come mi pare e no figlio mio perché se con l'essere umano della messa avanti il nostro Signore come figura autorevole se tu te ne infischi di quello che dici tu non è che non ascolti un uomo tu non ascolti Dio cioè questi sono passaggi molto sottili ma la coscienza retta li coglie molto facilmente la coscienza non retta un po' meno ok ho più grave ancora idolatrare un uomo ancora vivente anche con la motivazione di presunta santità perché fino a quando siamo in questo mondo tutti anche i santi anzi soprattutto loro possono essere tentati e ahimè insieme alla possibilità di essere tentati c'è anche la possibilità di cadere Dio non vuole in nessun modo che si tolga la gloria a Lui solo dovuta e vuole essere onorato e adorato anche nei suoi santi e nei suoi inviati che devono essere ascoltati da noi e seguiti e cari al nostro cuore tanto quanto ci trasmettono fedelmente la sua parola ci guidano secondo i suoi disegni e ci santificano con gli strumenti da Lui dati e voluti solo così e per questo nulla di più e nulla di meno sfuggendo dall'entrata in quel circolo idolatrico che tra l'altro è creato oggi da quelle odiosi celebrazioni mediatiche che diviniziano dei poveri uomini oggi in questo mondo ultra caratterizzato dai riflettori e dall'immagine i pericoli di questo sono elevati all'ennesima potenza creare i miti d'accordo gli uomini sono sempre poveri uomini sono sempre tali anche quando non fossero come la maggioranza tra l'altro degli idoli creati dagli uomini mondani grandi peccatori perché molti idoli sono grandi peccatori non voglio per ragione di carità fare nomi e cognomi ma personaggi idolatrati sono degli esempi pessimi d'accordo persone veramente povere piccole basse a volte corrotte viziose disdicevoli personalità dir poco disputibili concludo con le parole che amava pronunciare San Luigi Maria con un monforto insomma questa piccola digressione contro l'idolatria lui diceva sempre gloria a Gesù in Maria gloria a Maria in Gesù ma soprattutto gloria a Dio solo lui si firmava sempre con il latino Deo solo che appunto è un caso dativo che significa tradotto in italiano a Dio solo sotto intesa la gloria l'onore la potenza e la forza dei secoli dei secoli ameno e con questo cari amici ci diamo appuntamento se Dio vuole alla prossima puntata con la mia benedizione Dio sempre vi benedica e la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti